Abbiamo fatto una buona partita da Serie B di categoria, piuttosto che altre cose. Abbiamo preso il gol su pallina attiva, abbiamo reagito questa volta piuttosto che farci ammollire dalla situazione e deve essere la scintilla che cercavamo, deve essere quello che dobbiamo insistere su questo lavoro qua e insistere, insistere e continuare a battere. Sì, è mentalizzarsi alla categoria, mentalizzarsi al lavoro extra che c'è da fare fuori dal campo, da tra virgolette anziani perché richiede energie, richiede mentalità, richiede pensiero, richiede psicologia, richiede tempo anche, non è semplice. Vorrei anche solo a volte pensare al campo ma la squadra bisogna molto molto di più da ognuno di noi. La sosta può servirci a conoscerci in campo più che fuori perché è quello che abbiamo bisogno, è quello che ci fa masticare la felicità e quello che ce la fa gustare quando vinci le partite, è quello che poi dà la felicità a tutte le persone a Genova. Assolutamente con il mister perché è di livello alto, sa lavorare, lo staff è idem. Io ho la fortuna di avere già il paragone con l'anno passato e so che i risultati si possono ottenere con questa modalità. Ovvio, come ho detto prima, bisogna mentalizzarsi alla parte brutta di questa categoria per poi fare le nostre cose.